Il nuovo DPCM ha ridotto al 15% della capienza il numero di spettatori che potranno assistere alle gare al Romagnoli da 1.600 a 600, ma gli abbonati saranno garantiti, lo rende noto il Club Rosso Blu. La riduzione del 15% della capienza dello stadio, si legge nella nota ufficiale, garantirà in ogni caso l'accesso a tutti gli abbonati, in quanto il numero delle tessere sottoscritte rientra nei limiti indicati dal decreto ministeriale. Dunque contro il Montegiorgio ai lupi non mancherà il calore e l'affetto della tifoseria seppur presente il numero inferiore. Nel frattempo Cudini sta lavorando sulla testa e sulle gambe dei suoi. L'obiettivo è centrare due vittorie consecutive casalinghe. Dopo il Montegiorgio sarà il turno del Matese di Corrado Urbano per tenere la testa della classifica e non concedere nulla alle avversarie. Piccoli acciacchi per bontà ed esposito che alla ripresa si sono allenati al piccolo trotto. I due saranno comunque a disposizione. Probabilmente Cudini gli risparmierà la sgambatura in famiglia di domani ma per domenica saranno nell'undici titolare. A proposito della formazione qualche cambio potrebbe esserci. Cudini ci sta pensando del resto le alternative di valore non mancano. C'è Zammarchi che scalda il motore così come Sforzini attende l'occasione da sfruttare anche se la sua condizione può e deve migliorare. Infine il Montegiorgio. Sei punti in classifica. Successi interni con Castelfidardo e Matese e sconfitta contro l'Alba Longa. Un inizio positivo grazie anche alla Verde in attacco dell'ex Fiorentina ed Arsenal. Arturo Lupoli classe 1987 e ancora tanta voglia di far parlare di sé. Grazie. Grazie.